Si è svolto sabato 25 gennaio a Sant'Agata di Militello un interessante incontro pubblico riguardante il bando Fondo Sociale Europeo Formazione per la Creazione di Nuova Occupazione. L'incontro è stato organizzato dal Gall Nebro di Plus presso il Salone delle Conferenze dell'Unipegaso. Presenti il sindaco di Sant'Agata Bruno Mancuso e l'assessore regionale dell'istruzione e della formazione Roberto Lagalla. Una nuova formazione è straordinariamente importante. In questo momento stiamo dando seguito a vicende che hanno una radice antica, quale quella dell'Aviso 8, ma stiamo anche sperimentando modelli nuovi di formazione in un incontro tra formazione per l'appunto ed impresa che predispongano piani di attività da destinare a giovani perché questi vengano assunti nelle stesse imprese. Il bando 33 del 2019 che scadrà ai primi di marzo in termini di presentazione delle domande, è un bando rivolto insieme al mondo delle imprese e al mondo della formazione professionale. È un bando dedicato a coloro i quali, avendo una base formativa, una qualifica, un diploma, una laurea, sono alla ricerca del lavoro o sono nella posizione di doversi riqualificare ai fini della propria capacità professionale. Abbiamo bisogno di qualificazione, abbiamo bisogno di formazione, abbiamo bisogno di lavoratori che siano pronti ad affrontare un mercato sempre più esigente e quindi ritengo che questo avviso segni una svolta sulla formazione siciliana. È un avviso che parte dalla formazione professionale per arrivare allo sviluppo territoriale, che è il nostro obiettivo, quindi una mano in più nella divulgazione di un'informazione che serve per il territorio.